Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi spacchettiamo lo starter set di Panini FIFA 365. Album più 5 bustine di figurine, 3,90€. Facciamo partire la sigla che è The Almal, mi raccomando ragazzi seguideli, trovate tutti i loro link in the box e a rientro spacchettiamo questo album e ci vediamo tutte le figurine e tutto l'album, come sempre. Voliamo! Grazie a tutti! Allora eccoci qui rientrati dalla sigla, spacchettiamo. Mi sono munito di forbici così lo apro qui sotto. Un foro è stato fatto, adesso possiamo aprire con le mani senza problemi. Ecco qua. Facciamo uscire l'album, i 5 pacchetti di figurine, questo lo buttiamo, la forbice la togliamo ed eccoci qui. Allora, questi sono i 5 pacchetti di figurine che ci vedremo dopo. Eccoli qui. E questo invece è l'album. Vediamo Leao, Lewandowski, Alland, Holland, se preferite Benzema, Mbappé e Sané del Bayern Monaco. FIFA 365 2023. L'album si apre così. Questo è l'indice. Vediamo tutte le squadre ed altre categorie di figurine. Qui c'è il Golden Team 2023. L'album è in inglese. The Golden World of Football. Quindi qui vediamo tutti i loghi delle squadre selezionate per questa collezione. Vediamo squadre brasiliane, argentine, inglesi, italiane. Ci sono due squadre greche, Olimpia, Gosse e Pauk, squadre francesi, lo Shakhtar, squadra ucraina, c'è l'Olanda e il Portogallo. Insomma, le principali nazioni per quanto riguarda il mondo del calcio sono rappresentate da almeno una squadra. Poi magari forse mancherà qualcuno adesso così di getto, più o meno, visto che i principali campionati europei e non solo ci sono tutti, comunque sono tutti rappresentati da almeno una squadra. Qui partiamo con il River Plate. Come è strutturato l'album? Allora, qui vediamo la bandiera della nazione a cui appartiene la società, il nome della società, l'anno di fondazione, il nome completo e il nome della nazione a cui appartiene la squadra, in questo caso argentina, perché River Plate è una squadra appunto argentina. Poi, qui vediamo una serie di statistiche. Qui c'è il logo del club, a quale andrà attaccata appunto la figurina che richiama il logo del club. Qui tutte le figurine dei calciatori. Qui vediamo invece uno dei calciatori della rosa, in questo caso il portiere Franco Armani, che viene selezionato come rappresentante della sua squadra. Qui passiamo al Brugge, che è una squadra belga. L'Atletico Mineiro, squadra brasiliana. Qui c'è Ulc, che ha giocato anche in Europa. Qui c'è il Chelsea, invece, che non sta avendo molta fortuna sia in campionato che in Champions League. È stata eliminata dalla Champions, in campionato va malissimo, nonostante tutti i soldi spesi nel mercato estivo e soprattutto nel mercato di gennaio. Il Liverpool, anche loro una stagione abbastanza sottodono, ma comunque meglio di quella del Chelsea. Qui abbiamo il City, che invece è un carro armato come sempre, con questo marziano qui, che segna gol su gol, non lo ferma nessuno. Fenomeno puro. Qui abbiamo l'altra squadra di Manchester, lo United, che era partita malissimo, poi si è ripresa e adesso sta avendo qualche battuta di arresto di troppo. Eliminato dall'Europa League in maniera clamorosa, con errori, sopraerrori di Maguire e De Gea. Però è in finale di FA Cup, comunque. E in campionato è tra le prime quattro forze della Premier League. Qui vediamo il Tottenham. Harry Kane in rappresentanza, non poteva essere altrimenti il giocatore più rappresentativo della società, anche loro stagione pessima. Qui abbiamo l'Atletico Madrid. E hanno selezionato Antoine Griezmann per l'Atletico Madrid. Qui abbiamo il Barcellona. Grande stagione in Liga, un po' meno nelle coppe. Poi c'è il Real. Schiaccia Sassi, come sempre. In semifinale di Champions, ancora una volta. Qui c'è il Villareal, che l'anno scorso ha fatto grandissime cose. E anche quest'anno alla fine, tutto sommato, sta facendo una bella stagione. Qui abbiamo l'Olympique Marsiglia. Bene in campionato, meno nelle coppe europee. E qui c'è l'altra scuola francese di questa collezione, il Paris Saint-Germain. Altra brutta stagione per quanto riguarda il PSG nelle coppe europee. Il Bayern Monaco. Che da quando è esonerato Nagesmann, sta sbagliando tutto. Qui c'è il Bayern. Qui c'è l'Olympiakos, una delle due squadre greche di questa collezione. Il Pauk. Olympiakos e Pauk sono greche. Come l'Olive di Carlo Verdone. Poi qui c'è l'Inter. Iniziamo con le squadre italiane. L'Inter, una delle due semifinaliste di Champions League. Poi qui c'è la Juve, semifinalista di Europa League. Qui c'è il Milan, l'altra semifinalista di Champions. Le squadre italiane stanno facendo grandi cose nelle coppe europee. Poi qui c'è la Roma. Anche lei in semifinale di Europa League. Qui abbiamo l'Atlas, che è una squadra messicana. Dietro c'è l'Ajax, squadra olandese. Fucina di grandi talenti. Poi qui c'è il Porto. Altra squadra che produce grandi talenti. Un po' meno dell'Ajax, ma anche il Porto produce grandi talenti. Soprattutto il Porto è in grado di comprare in Brasile e poi far esplodere i suoi giocatori e rivenderli a cifre incredibili. Qui c'è lo Shakhtar invece, squadra ucraina. E poi qui c'è invece il FIFA Women's World Cup Australia e Nuova Zelanda 2023. Qui c'è la FIFA Club World Cup Wai, non so come si pronuncia ragazzi, 2021. Qui l'Under 17 femminile, la World Cup, quindi la Coppa del Mondo Under 17 femminile. India 2022, Peru 2023, qui l'Under 20 indonesia 2023 e Costa Rica 2022. Altre pubblicità. E si conclude qui l'album. Adesso spacchettiamo i cinque pacchetti di figurine. Eccoli qua. Così vediamo anche le figurine come sono state realizzate. Allora vai, spacchettiamo. Allora, in ogni pacchetto ci sono una, due, tre, quattro, cinque figurine. Partiamo con il logo del River Plate, la prima squadra che abbiamo visto. Eccola qua, la prima squadra dell'album, il River Plate. Bellissima la figurina del logo. Bella. Qui abbiamo invece le Coppe del Mondo femminili. Sì, Cina 91 e Svezia 95, i luoghi delle competizioni. Qui abbiamo il logo del Pauk Salonico. Le figurine dei loghi sono bellissime. Abbastanza grandi per essere in doppia figura anche le figurine dei calciatori. Qui abbiamo Nusa e Svokholsen delle Bruges. Di solito sono piccoline. Quando le fanno doppie, le fanno piccole. Invece qui le hanno fatte abbastanza grandi. Non sono grandi come una figurina normale, classica. Però sono abbastanza grandi e fatte bene. Guardate come nitida l'immagine. Le figurine come sono state realizzate? Allora, logo del club di appartenenza. Logo della collezione FIFA 365. Poi ovviamente la foto in primo piano del calciatore. Poi la nazionalità del calciatore. In questo caso qui vediamo Norvegia per quanto riguarda Nusa e Danimarca per quanto riguarda Svokholsen. Qui appunto c'è il nome abbreviato della nazione. Nor per Norvegia. Den per Danimarca. Scritto in inglese, ovviamente. E qui poi c'è l'anno di nascita del calciatore. 17 aprile 2005 per Nusa. Giovanissimo. E 29-12-99 per quanto riguarda Svokholsen. È giovane anche lui. Poi qui abbiamo Ansufati e Ferran Torres, anche loro giovanissimi, del Barcellona. E si conclude qui il primo pacchetto. Ne dobbiamo scartare ancora quattro. Andiamo col secondo. Vai. Qui abbiamo una figurina tripla del Pauke. Queste sono piccoline, vedete? E hanno lo sfondo dorato. E hanno pochissime informazioni. Anzi, non hanno nessuna informazione per quanto riguarda i calciatori. C'è solo il nome e il cognome e il logo della squadra a cui appartengono. E qui sopra il logo FIFA 365. Qui abbiamo la maglietta di casa e di trasferta del Manchester United. Eccole qui. Qui abbiamo il trio del Barcellona, Ter Stegen, Arauco e Koundé. Sotto il trio dell'Entracht di Francoforte, Mario Cozze, Kamada e So. Ciprizzo. Poi sotto, sempre dell'Entracht, abbiamo Rode e So. In versione più grande. Guardate come sono belle queste qui. Queste figurine qua, decisamente le più belle. E poi si conclude qui il pacchetto perché torniamo al trio del Pauke Salonico. Io però mantengo sopra il logo del River. Che è spettacolare. Allora, apriamo quest'altro pacchetto. Vediamo se hanno messo doppioni nello starter pack. Io li detesto i doppioni nello starter pack. Non dovrebbero mai esserci. Fino ad adesso non ne abbiamo incontrati. Qui abbiamo il duo Akanji e Ake del Manchester City, difensori centrali, le riserve. Perché non sono loro i titolari. Qui c'è il logo dello Shakhtar Doneks, squadra ucraina. Il logo del Porto. La Coppa Under 17 femminile. La Coppa del Mondo Under 17 femminile. E poi sotto abbiamo dello Shakhtar Doneks, Sikan e Traoré. Danilo Sikan e Lassina Traoré. Eccoli qui. E poi inizia il pacchetto. Gli ultimi due ragazzi. Io vi invito da subito ad iscrivervi al canale per non perdervi tutte le novità che escono in edicola. Per quanto riguarda le figurine non solo e per non perdervi tutti gli altri contenuti del canale. Mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Qui abbiamo Narei e Nelson Oliveira del Pauk Salonico. Sotto McTominay e Van de Beek del Manchester United che danno in partenza per quanto riguarda il prossimo mercato estivo. Qui abbiamo il logo dell'Entracht di Francoforte. Sotto il logo dell'Olimpia, cosa bellissima. E sotto abbiamo Te Steken e Arauco del Barcellona. Eccoli qua, Te Steken e Arauco. Ultimo pacchetto di questo video. Vediamo un po' se troviamo qualche figurina delle squadre italiane oppure no. Fino adesso mango una. Vediamo qua se la troviamo. Allora qui abbiamo Luke Shaw e Varane del Manchester United. Sotto Grealish e Gundogan del Manchester City. Poi c'è il logo del Manchester United, è bellissimo anche il logo del Manchester, ragazzi. Abbiamo il primo doppione, perché se non sbaglio già l'abbiamo incontrata questa figurina, già l'abbiamo trovata. La Coppa del Mondo Femminile Under 17. Sì, eccola qua. L'abbiamo già trovata, quindi il primo doppione. Quindi doppione nello starter pack, lo sapete, io li detesto. Ma vabbè, dai. Che dobbiamo fare? Qui abbiamo il logo della Coppa del Mondo Cina 2007 e Germania 2011, Coppa del Mondo Femminile. E qui finisce il pacchetto. Detto questo, ragazzi, io vi rinvito ad iscrivervi al canale, lasciate un bel mi piace a questo video, commentate questo video, condividete questo video, seguitemi anche sugli altri social. Trovate tutti i link in the box. E noi, come al solito, ci becchiamo al prossimo video. Ciao belli! E noi, come al solito.